I carabinieri della stazione di Pachino hanno tratto in arresto un bracciante agricolo di 25 anni per possesso ingiustificato di armi e munizioni e detenzione di stupefacenti. I militari, entrati nell'abitazione dell'uomo per la verifica di un allaccio abusivo alla rete elettrica, hanno esteso il controllo a un fienile dal quale si notava un vistoso cavo elettrico. Il giovane, intuita l'intenzione dei carabinieri, furtivamente è entrato nel fienile da un accesso sul retro e ha occultato uno zaino oltre alle balle di fieno. L'azione però è stata notata dai carabinieri che all'interno della sacca hanno rinvenuto due pistole con matricola brasa, munizioni e oltre 600 grammi di marijuana. Il 25enne è stato quindi arrestato e condotto presso la casa circondariale di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria.